da seguire tutta ad un fiato naturalmente questa Giorgia Biondani talento già espressosi in campo nazionale assolutamente con la medaglia di staffetta agli europei di Vasca Corta Biondani davanti a tutte di una lunghezza gli ultimi campionati italiani giovanili ha vinto con 25.07 primato del meeting vediamo oggi per la Biondani 25.57 rimane alla Ferraioli il primato è sui suoi passi migliori comunque la porta colori della Leo Sport seconda la Pintar 26.34 second place iscriviti al nostro canale